Un commando di soldati americani specialisti in guerriglia viene inviato nella giungla del Centro America per distruggere un gruppo di guerriglieri e liberare i loro ostaggi. La missione viene rapidamente eseguita, ma gli ostaggi vengono trovati morti. Sulla via del ritorno il commando diviene il bersaglio di Predator, un terrificante essere invisibile, che colleziona crani umani, il quale attacca gli uomini, li uccide e li squarta, appendendo i loro resti agli alberi. In breve, il comandante del gruppo Schwarzenegger rimane solo a fronteggiare quello che si rivela essere un cacciatore alieno dotato di armi e tecnologia superiori. Il coraggio, l'addestramento, il caso, e soprattutto la fortuna, consentiranno all'uomo di individuare i punti deboli del mostro e alla fine di prevalere su di lui. Condotto sui ritmi incalzanti congeniali al regista, questo film tutto azione è divenuto un cult del genere.